Chi è il padrone della tua vita? Signore padrone, capitano mio capitano? Beh, ovviamente ognuno di noi risponde, ma io sono il padrone della mia vita. Beh, certo, ci mancherebbe altro. Peccato che non sia proprio così, o meglio, io ve lo auguro, ma non sempre così. Mettiamo che conosciate una persona che vi piace un sacco, e allora chiaramente volete stare con questa persona. E che cosa accade? Che ovviamente voi avete delle abitudini, ma le cambiate per questa persona. Non so, avete un appuntamento con gli amici? E disdite quell'appuntamento con gli amici, oppure un impegno di lavoro, o che so, dovete andare dal parrucchiere, ok? E non ci andate per stare con la persona che vi piace. Questo è un grosso problema, per due motivi. Il primo motivo è che voi state in questo modo comunicando a questa persona che non tanto le è più importante del parrucchiere, dell'amico, dell'amica, o di chissà che altro, ma della vostra routine, delle vostre abitudini, di quello che voi avete creato in anni, 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 tantissimi anni per alcuni di voi, mentre per me sono sempre pochi, perché io sono un giovinciello di primo pelo. E questa è una roba gravissima, perché questa persona inizierà a darvi per scontati, perché tanto ci siete, siete disposti a rinunciare a parte della vostra vita per lei o per lui. E non va quasi mai bene una roba del genere. Quasi mai bene, perché ovviamente a un certo punto si crea un rapporto e dei compromessi si devono creare, ma dopo, molto dopo, tendenzialmente quando si vive sotto lo stesso tetto. Prima, meno compromessi si creano, meglio è. Perché se siete persone abituate a scendere a compromessi, voi sarete quelli che pagheranno il prezzo più alto. E il secondo motivo riguarda voi, perché se voi iniziate a rinunciare a delle abitudini, a delle cose che comunque vi fanno stare bene, create un vuoto. E chi dovrà riempire quel vuoto? Quella persona. Quindi si innescano tutta una serie di dinamiche perverse, dove voi vi sentite privati di qualcosa, quindi create aspettative nei confronti di questa persona. Questa persona assume potere nei vostri confronti e non va mai bene. I compromessi dovremmo cercare di farli il meno possibile e il più tardi possibile. È ovvio che a un certo punto dei compromessi si creano, ma che ci sia un tetto comune sotto il quale si vive. Prima è sempre una libera scelta di ognuno e se siete persone che tendono a fare compromessi, sarete probabilmente, anzi sicuramente, quella persona nella coppia che pagherà il prezzo più alto. Ditemi che cosa ne pensate, scrivetemelo qua sotto, perché mi interessa ed è utile non soltanto a me, perché mi vengono idee, cresco anch'io, ma anche a tutti quanti gli altri che leggono i commenti e magari si fanno un'idea e pensano qualcosa alla quale non avrebbero potuto pensare. Quindi scrivete cosa ne pensate e creiamo una bella community. Cerchiamo di diventare sempre più possibile, perché più siamo, più abbiamo idee e più possiamo crescere. Yeah!